Finalmente il meritato riposo è un premio alla carriera per Platone, questo cane poliziotto che è un veterano delle unità cinofile della Polizia di Stato. Passarella d'onore e cerimonia delle grandi occasioni nella caserma Annarumma a Milano per il congedo di Platone, poliziotto a quattro zampe pronto per la pensione. Il pastore tedesco, veterano delle unità cinofile della Polizia di Stato, va a riposo dopo sei anni e mezzo di servizio. Quasi 300 pattugliamenti, 200 servizi allo stadio e diversi interventi durante l'arresto di indagati, un curriculum da Rambo per l'ormai ex pattugliatore Platone che è stato adottato da un vigile del fuoco di Piacenza. Alla cerimonia di commiato hanno preso parte il questore di Milano Giuseppe Petronzi, i prefetti Renato Saccone e Daniela Stradiotto e l'onorevole Michela Vittoria Brambilla che a Platone hanno assegnato un diploma speciale alla carriera. Nella sede del comando cinofili per l'occasione è stata inaugurata un'infermeria veterinaria con ambulatorio dedicato a tutti gli agenti a quattro zampe e dotato di screening e ecografie.